Palazzo Comi a Lucugnano e la sua storica biblioteca devono restare luoghi di cultura. A ribadirlo è il sindaco di Tricase, Antonio Giuseppe Coppola. Nel corso dell'ultima commissione consigliare in provincia, a Lecce, il primo cittadino ha chiesto che venga sospeso o annullato il bando della provincia che prevede l'assegnazione trentennale a privati del Palazzo Baronale in cui visse o però il poeta Girolamo Comi. Una decisione, quella della provincia, che scaturisce dalla necessità di contenere i costi gestionali dopo la riforma del Rio, ma che il comune di Tricase non vuole accettare e le parti restano distanti. La proposta è quella di sospendere il bando, che è il primo punto. Poi l'eventuale minore introito che la provincia fra cinque anni potrebbe avere, perché il bando prevede che solo fra cinque anni ci sarà il ritorno economico, può essere tranquillamente sostituito da una riduzione degli affitti che la provincia paga nel territorio di Tricase. Noi possiamo mettere a disposizione patrimonio immobiliare per scuole per fare in modo che la provincia non debba sostenere i costi d'affitto nel nostro territorio. Chi partecipa al bando, ma anche chi fa proposte sostitutive, deve proporre un progetto sostenibile. Sull'idea del sindaco, ma di nessun altro, non c'è niente di tutto questo. C'è solo l'idea di volerlo gestire da solo, ma in realtà dove trovano i soldi ce ne vogliono davvero tanti. Presenti anche rappresentanti del comitato che da mesi si batte per evitare il passaggio di Palazzo Comi ai privati, forse destinato a diventare un ristorante.